Gentili telespettatori, buona giornata. In Europa il patto sull'immigrazione e asilo oggi votano i 27 paesi che formano l'Europa Unita e voteranno il testo limato dalla presidenza di turno svedese. Che cosa può cambiare per l'Italia? Andiamo a vedere. Sarà un blocco navale europeo? Ma figuriamoci, ma figuriamoci. Giornata storica oggi? Ma dai, ma quale giornata storica? Scrive qualche giornale. I 27 paesi dell'Unione Europea sono riuniti a Lussemburgo per il Consiglio Affari Interni che ha all'ordine del giorno il nuovo patto per la migrazione e l'asilo, che va a modificare il regolamento di Dublino, che sul tavolo ci sono due regolamenti. Uno introduce una solidarietà obbligatoria ma flessibile. I ricollocamenti non saranno obbligatori, si potrà optare per un sostegno finanziario. La Commissione dell'Unione Europea agli Affari Interni, Johansson illustrerà anche il pacchetto di aiuti finanziari per la Tunisia. Perché in questi mesi è apparso evidente che le dimensioni interne va associata alla dimensione esterna delle migrazioni. Sono anni che i paesi dell'Unione Europea cercano di trovare un accordo ma senza riuscirci. Questa volta si vota, sarà a maggioranza qualificata e non all'unanimità. Nessun paese potrà mettere il veto. Allora, che cosa può cambiare? L'Unione Europea dice che arrivano 100.000 clandestini in Italia e facciamo una ripartizione, 20.000 vanno alla Germania, 15.000 alla Francia, in base alla forza economica di ogni paese. Se tu paese XYZ rifiuti di prenderti i clandestini che fai entrare l'Italia, allora devi pagare per ogni clandestino che non prendi paghi l'Italia 22.000 euro a clandestino. Quindi che cosa può succedere? che qualche paese potrebbe accettare i clandestini piuttosto che pagare, ma la maggioranza, soprattutto i paesi di Visegrad, quelli di destra, soprattutto quelli diranno piuttosto di ricevere i clandestini che tu fai entrare, io ti do i soldi. All'Italia che cosa potrebbe succedere? Arrivano 100.000, magari ne ricollochi 5.000, te ne tieni 95.000 e ti arrivano i soldi. Ma l'Italia realmente squattrinata non è che interessassero davvero soldi. All'Italia interessa fermare gli arrivi che fermi solo fermando le partenze. È logico, no? Se non vuoi far arrivare delle persone non le devi far partire. Matematico, elementare. E quindi questa è la solita storia. Arrivano perché arrivano e poi ce li dividiamo. Ma attenzione, poi si parla di, probabilmente non di clandestini economici, cioè quelli che arrivano senza documenti perché non scappano da nessuna guerra, non scappano da niente, ma scappano dalla povertà. Ecco, quelli che scappano dalla povertà poi probabilmente sono esclusi. No, quelli no, che sono il 98%. Parliamo solo dei richiedenti asilo perché hanno delle motivazioni serie. Arrivano perché sono scappati da qualcosa o da qualcuno. Dimostrabile, quindi poi devi anche dimostrarlo. Poi i numeri si riducono al lumicino. La maggior parte dei clandestini che arrivano l'Italia se li tiene, non li ridistribuisce e non prende soldi. Poi c'è una piccola parte di quelli che davvero scappano da qualcosa o da qualcuno che o vengono ricollocati o i paesi pagano. Ma stiamo parlando di cifre piccole. Quindi di che stiamo parlando? Stiamo parlando di una cosa seria o di una cosa così? tanto per dire stiamo aiutando l'Italia. Bene, poi si è parlato ovviamente delle crisi internazionali. Comunque, nei paesi membri c'è cautela. L'Europa mostra ottimismo. Se il Consiglio troverà la quadra si potrà cominciare a definire nel dettaglio questa legge. la decisione sarà presa a maggioranza qualificata almeno 15 paesi rappresentanti il 65% della popolazione dell'Unione Europea. È probabile che Polonia e Ungheria votino no. L'Italia non ha ancora sciolto la riserva su come voterà, se si andrà al voto, come del resto non l'hanno sciolta numerosi altri paesi. Piantedosi mercoledì ha spiegato che l'Italia vuole imporre a livello europeo un tema necessario da affrontare. È un tema difficile ma è un tema urgente smetterla con il principio della volontarietà nella ridistribuzione, iniziare a creare le basi per ragionare sull'obbligatorietà della ridistribuzione. All'Italia anche sui migranti serve più Europa, non meno Europa. Dall'Italia che vuole un blocco navale al ti pago perché non voglio i tuoi clandestini ma solo quelli che scappano da qualcosa, quindi da una piccola parte, il resto te li tieni e non dai fastidio agli altri paesi europei. Quindi alla fine valutate anche voi quanto possa servire una ridistribuzione solo di richiedenti asilo per motivi veri che sono pochi rispetto a un totale. Quindi stiamo parlando di un qualcosa che realmente all'Italia non porta assolutamente nulla. Assolutamente nulla. Grazie a tutti per avermi ascoltato, vi auguro buon proseguimento di giornata, ci vediamo al prossimo video tra una ventina di minuti. Grazie nuovamente e arrivederci a presto. Buona giornata, ricordatevi che c'è anche Tele Italia Seconda Rete e poi questi video sono condivisi nella pagina di Facebook che si chiama Tele Italia. Grazie a tutti e arrivederci a presto. Grazie a tutti.